Spettro che possiamo tranquillamente allargare, introducendo anche la nostra ospite, Marta Bernardini, responsabile progetto Rifugiati Immigranti dell'AFCEI, appunto. Buongiorno Marta, intanto bentornata. Grazie, grazie a voi. Ormai ci sentiamo abbastanza frequentemente, ma lo facciamo anche per un motivo specifico, perché voi vi occupate di flussi migratori, ormai ve ne occupate da anni, vi occupate di occoglienze di persone che arrivano da luoghi lontani, in difficoltà, e non bisogna parlare di queste tematiche solo quando c'è lo sbarco che esce sulle prime pagine dei quotidiani, lo sbarco magari, la tragedia in mare, perché i flussi ci sono sempre, questo lo continueremo a ripetere ogni volta. È un'attenzione che dovrebbe essere mantenuta costantemente alta, giusto Marta? Esattamente, con il progetto Mediterranea NOP delle case evangeliche, noi ormai lavoriamo da dieci anni, quindi siamo arrivati a questo momento della storia del progetto, e l'attenzione per i flussi migratori, specificatamente nel Mediterraneo, è stata proprio un po' la scintilla, infatti il progetto ha proprio questo nome, la speranza nel Mediterraneo, e nasce tutto dall'isola di Lampedusa, dove oggi, dopo dieci anni, siamo ancora e continuiamo a monitorare quelli che sono stati i cambiamenti in questi anni, quello che non è cambiato è che le persone comunque continuano ad arrivare in situazioni molto precarie e difficili, e continuano a morire nel Mediterraneo. Quindi anche se gli arrivi, soprattutto sulle coste di Lampedusa, sono diventato un po' l'elemento massimo di strumentalizzazione, l'immagine per eccellenza da usare anche nel discorso politico, noi possiamo testimoniare ogni giorno che vediamo tante donne, bambini, giovani uomini, arrivare sulle coste italiane. E da Lampedusa sono nati poi tutti i nostri progetti e quello che, insomma, oggi continuiamo a fare e vediamo di voler continuare a fare. Hai parlato di una sorta di anniversario, dieci anni di lavoro, dieci anni di impegno, dieci anni di servizio. Quest'anno appunto MH ricorda questi dieci anni, nati da un evento che, insomma, non è piacevole ricordare, ma che ha dato un po' il via a una rete di collaborazioni e di sostegno che non vi vede da soli, sicuramente, che è importante continui a essere alimentata. Sì, intanto è un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche, noi ci teniamo molto a ricordare questo, perché quindi è già un progetto che mette insieme le chiese protestanti in Italia. Quindi nasce già con una pluralità di identità e di anime, proprio per far capire quanto questo tema, dopo la tragedia del 3 ottobre 2013, è stata una chiamata fortissima per tutte le chiese protestanti in Italia. È stata proprio l'occasione di testimonianza evangelica e quindi, appunto, Lampedusa dal luogo simbolico è diventato uno spazio reale di azione e di testimonianza quotidiana e le collaborazioni sono tantissime a livello ecumenico, quindi con la Chiesa Cattolica, ma se pensiamo anche a quello che è nato successivamente, per esempio il programma dei corridoi umanitari nasce già in un'ottica ecumenica e oggi sono tanti partner che ne fanno parte, proprio perché è un modello efficace che è stato positivamente contagioso, cioè l'idea di allargare la possibilità a più realtà di fare la loro parte, senza sostituirsi mai alle responsabilità del governo e degli stati, questo lo ricordiamo sempre. Il nostro dovere, come chiese, è mettere una leuce sull'ingiustizia e non sicuramente sollevare dalle responsabilità poi i nostri decisori politici. Certo. Per celebrare questi dieci anni di MH, del progetto dell'AFCEI, avete pensato anche, e di questo avevamo già parlato anche in una precedente intervista, ma adesso Marta ci ha portato anche alcuni esempi di questo vocabolario che è stato appunto pensato, perché pensando appunto all'alfabeto dall'A alla Z, per ogni lettera avete cercato una parola che vi contraddistingue, che contraddistingue il lavoro di MH. Tu ne hai portate un po', le facciamo anche vedere a favore di camera. Ecco qua. E ho preso a caso una N di narrazione, una F di favola. Come è nata questa idea, Marta? È nata dall'esigenza un po' di raccontare questi dieci anni di storia del progetto, volendo anche un po' definire il nostro posizionamento su alcuni temi. Da sempre abbiamo lavorato sul linguaggio e la narrazione, anche con l'intento un po' di trasformare alcuni elementi di questa narrazione. Abbiamo pensato quindi di dare un nuovo significato ad alcune parole che molto spesso sono state anche strumentalizzate. E quindi abbiamo costruito il nostro vocabolario, un po' che racconta i nostri progetti. Abbiamo la Citi Corridoi umanitari, la Didi d'Ambeso, che è il nostro ostello sociale, la Bini di Bosnia, ma anche delle parole con dei significati forti. Uno è la narrazione, che appunto la vogliamo trasformare. Un'altra, per esempio, è la parola emergenza. Quindi l'emergenza per noi non è quella delle persone che arrivano sul territorio italiano, ma di tutte quelle che non arrivano, quindi che muoiono nel Mediterraneo o spariscono. O l'Effe di favola, l'idea che invece dall'altra parte non ci sono sempre storie eletofine, le storie sono complesse, quindi abbiamo anche una U di unicità, quindi ogni storia ha una sua portata. L'R di rifugiato, pensando anche di uscire dalla classica etichetta del rifugiato, alcuni dei nostri ospiti ci hanno detto, ma io non sono solo un rifugiato, sono un architetto, sono una studentessa. Quindi l'idea che le parole sono potenti, costruiscono il mondo, e noi vogliamo fare parte di questa costruzione, o meglio, trasformazione. Sì, è una delle frasi che ricorrono più sovente anche nella narrazione appunto dei progetti, insomma, legati ai migranti, e non solo, i progetti in generale delle nostre chiese, persone non numeri. Quindi focalizzare l'attenzione, come giustamente dicevi tu, all'uomo, alla donna, che non è un rifugiato, una rifugiata, un migrante, un migrante, ma è un architetto, una studentessa, quindi persone anche che hanno delle, assolutamente come tutti e tutte, delle capacità e delle professionalità da mettere al servizio, come facciamo esattamente tutti noi nella nostra vita. Quindi una valorizzazione anche del loro percorso che c'è stato, di studi e di lavoro. Sono persone che hanno dei desideri, delle aspirazioni, e per noi è anche importante ricordare che il principio di autodeterminazione è fondamentale, quindi che le persone possano raccontarsi, decidere quali parole usare per descriversi e anche decidere per il proprio percorso di vita. Quindi anche il percorso, l'atto di spostarsi, questo coraggioso atto di andare oltre dei confini imposti è anche una forte presa di posizione per volersi autodeterminare. Noi questo lo diciamo dal primo giorno, anche un po' per uscire da quell'idea del o il migrante, la persona migrante è invasore, o la povera persona è vittimizzata. Questa è una narrazione sfalsata. Esatto, c'è un po' questa polarizzazione, no? Come in questo momento stiamo assistendo a questo slittamento del linguaggio, quindi che le persone migranti sono o un problema da risolvere di ordine pubblico, di ordine di sicurezza, che vuole delle risposte militari, oppure braccia da lavoro che ci servono perché altrimenti le economie europee andranno al fallimento. Quindi anche uscire da queste polarizzazioni che sono sempre rischiose e vedere le sfumature che sono in mezzo e soprattutto i diritti e la dignità delle persone. Assolutamente. Dieci anni di lavoro, ma guardiamo un po' al futuro adesso. Avete in programma nuovi progetti, nuove iniziative? Assolutamente lo sguardo verso il futuro è fondamentale ed è anche un po' quello che abbiamo sempre avuto, che caratterizza anche un po' l'elemento della speranza in realtà che fa parte del nostro progetto. Il progetto di Mediterraneo NOP è per lo più noto per i corridoi umanitari, quindi è un po' il nostro fiorello occhiello, ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ma per noi ormai è da tempo importante dire che non possono essere l'unico modo per far arrivare legalità e sicurezza alle persone. Servono altre vie legali di accesso in Italia e in Europa e per questo da tempo stiamo lavorando per delle vie di accesso, per mobilità lavorativa per le persone rifugiate. Quindi non solo persone con forti vulnerabilità, di cui giustamente una chiesa protestante ha sentito l'urgenza e l'importanza di occuparsi, ma anche persone che possono essere inserite per le loro capacità e aspirazioni lavorative. Quindi questo sicuramente è una delle nuove prospettive e anche ampliare la rete di accoglienza, quindi stiamo lavorando a questo modello che viene definito di community sponsorship, potremmo dire di accoglienza comunitaria, per immaginare un modello ben strutturato, che comprende una formazione e un accompagnamento di quelle realtà della società civile, delle nostre chiese, che vogliono contribuire a questa Italia che vogliamo costruire e quindi è sicuramente una delle nostre prospettive. Poi c'è il tema del lavoro e della dignità dei lavoratori, quindi gli ostelli sociali e le campagne del Saluzzese e della Calabria. Sì, magari poi entriamo più nel dettaglio con il prossimo ospite rispetto a questa novità, che in effetti è una notizia recente, che anche nella zona delle Saluzzese, zona piemontese, è uno stello dedicato proprio a coloro che stagionalmente sono impegnati nella raccolta della frutta e della verdura, uno stello a disposizione appunto per chi non ha un luogo dove potersi riposare, dove potersi riccare, ecco, alla fine della giornata dura di lavoro. Dieci anni di MH che celebrerete anche con un evento pubblico. Anche qua abbiamo qui un volantino da far vedere. Vabbè, al di là della commemorazione a Lampedusa che fate ogni anno, e questo ormai è diventato una consuetudine insieme anche ad altre realtà, quindi una versione ecumenica proprio di un ricordo della tragedia di Lampedusa e di conseguenza dell'inizio del lavoro di MH. Però in questo caso, ad ottobre, ci sarà anche l'assise generale dell'AFCE, della Federazione Chiesa Evangelica in Italia, e l'apertura sarà dedicata proprio ai dieci anni di MH. Ecco qua. Cosa succederà, Marta? L'apertura dell'assise generale della federazione è un momento importante perché ci sono giorni che ci dedichiamo a immaginare anche qui il futuro della federazione e in questa occasione dei dieci anni abbiamo proprio pensato di aprire questo momento con uno spazio di dibattito aperto al pubblico in collaborazione con la rivista Confronti che ringraziamo perché condividiamo moltissimo la visione e la progettazione di questa giornata. Avremo diversi ospiti, momenti musicali. Cercheremo di raccontare un po' il nostro lavoro di questi dieci anni anche attraverso le voci di alcuni partner internazionali e tanti ospiti che con noi rifletteranno su quello che è successo in questi dieci anni dove stiamo andando avanti, quindi non saremo solo noi a raccontarci ma lasceremo che gli altri che ci hanno accompagnato in questi anni raccontino qualcosa che hanno fatto insieme a noi. L'appuntamento è per il 24 di ottobre a Roma, alla Chiesa Valdese di Piazza Cavour, alle 17 per appunto una celebrazione pubblica dei dieci anni di MH. Chiudo con una riflessione sul tema che è stato toccato anche in conferenza stampa questa mattina oltre, si è parlato anche di Mediterranean Hope e di questo anniversario e si è parlato anche dell'ordine del giorno approvato dal sinodo sul tema della pace. Quello che voi fate sono percorsi di pace a tutti gli effetti quindi insomma anche attraverso queste iniziative si insegna il valore della pace e si dimostra che una via di pace è possibile. Una pace giusta e duratura, una cultura della pace e dell'accoglienza è un dovere anche delle chiese protestanti. Grazie Marta, buon lavoro a te, a tutto lo staff che lavora nel progetto Migranti e Rifugiati della Federazione MH e a tutte le svariate diramazioni di questo progetto, tutte le frontiere in cui siete presenti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.